ben modale bentornati in sky park e siamo sempre qua dobbiamo andare avanti e capitano ovvio comunque ho visto che molti hanno apprezzato l'idea dei live con cioè facendo anche games oppure creando mappe così via no non si può fare così e quindi vi ringrazio e si farò di live giocando anche games magari con i miei amici che ne so oppure no non si può fare così non si può fare così oppure creerò mappe comunque se qualcuno mi segue da rap hd ad esempio rap hd stavo creando una mappa non mi ricordo neanche come si chiama e credo di avere ancora il progetto se lo sbaglio ce l'ho e vorrei continuare allora era ma no non si può fare così e mi larga pure mentre cato comunque che stavo dicendo ah sì il c'è vorrei continuare era un roller coaster e una mappa parkour e mi piaceva comunque vorrei creare appunto una mappa parkour che parkour e mi piace molto in minecraft anche se sono abbastanza nabbo questo sbaglio già l'ho preso il diamante sta qua e ora che dobbiamo fare oddio c'è qualcosa di diamante la aspetta un attimo forse devo cadere qua vediamo vorrei provare a cadere qua vediamo no si devo cadere la però posso andare anche in quella parte di diamante quindi non lo so vediamo un po cosa faccio vorrei andare a prendere qualcosa quella roba di diamante se la voglio vedere che c'è dentro comunque ho visto che wish era un desiderio e il mio inglese a volte è buono a volte no quindi scusatemi mi lagga oh ci sono riuscito no ecco vai stavo ricadendo giù e grande cosa c'è scritto cosa c'è scritto ecco qua oddio no l'ho buttato ma quanto sono nabbo quanto sono nabbo lo metto qua e ora devo buttarmi giù no ci sono i cartelli qua e non riesco a leggere clicchiamo direttamente e oddio mi lagga ok non mi lagga più e saliamo vediamo cosa c'è checkpoint buono buono vediamo il checkpoint vediamo qui vai fuom oddio ma è impossibile da fare è impossibile da fare vediamo no no non si può fare qua proviamo giù dove stavamo prima questo si deve fare là aspettate prima facciamoci un giro per vedere madonna mi lagga qua giù mi cadevo pure aspettate c'è qualcosa la aspettate sempre quello si è sempre quello spero di sì perché se no vai si è sempre quello no e abbastanza nabbo sono nabbo comunque questo episodio non stiamo facendo proprio niente e faccio schifo mi sono accorto che faccio schifo in parkour alcuni mi hanno detto che ero bravo appunto ero perché non avete visto questa puntata ma la vedrete speriamo vai ok madonna vai c'è rapa rapa comunque molti mi chiedono ancora quale significato del mio nome non lo so neanche io sinceramente cioè quando dovevo registrarmi su youtube dissi mo che nome metto cioè non ha non ho nooo non ho fantasia e quindi ho messo nome alla cazzo rapa rapa cd uscì e poi dalla pacchetti visto che mi conoscevano alcuni mi conoscevano con il nome rapa decisi di chiamarmi appunto rapa no rapa games perché trattavo di giochi e io inizialmente facevo video di cod di mv3 però poi ho deciso di fare solo minecraft visto che il mio gioco preferito dopo c'è il mio gioco preferito proprio è gta 4 anzi gta in generale perché poi ho giocato tutti gta proprio tutti compreso c'è uno due tutti e per il mio preferito è sempre stato vice city poi sand andrea sand andreas sand andreas poi gta 4 si mi piace per migliore secondo me no l'espansione ballad of gaytoni quello mi piace tantissimo quello e invece lost and damned non è che mi piace tanto l'ho giocato pochissimo e la storia non so com'è però visto che è abbastanza cuba la storia e noi siamo dei motociclisti in quel gioco e non mi ispira tanto mi ispira più ballad of gaytoni perché ci sono molte luci ed è più animato il gioco e quindi mi piace cioè non so cosa c'entra però l'ho detto perché volevo dirlo e siamo a 5 minuti e 21 tipo e continuiamo ad andare arriviamo a 7 minuti credo 6 minuti e basta vai comunque come state notando in queste puntate sono abbastanza aperto non di non aperto ma no no faccio schifo questa parte abbastanza difficile c'è non lo so ma poi non so neanche se è la strada giusta quindi pensate un po sto facendo una cosa che non so neanche se è quella e stavo per dir ma nooo non si può fare così non si può fare così e che stavo dicendo non so neanche sta dicendo gta si non so cosa c'entrava un discorso di prima gta però boh mi andava di dirlo e l'ho detto e si fatemi anche voi delle ma no fatemi anche voi delle domande perché ho visto nell'episodio scorso meravigliate fatte magari di te lo se volete una mappa parkour che con quella ci metterò tantissimo però vorrei fare una mappa parkour a parte che comando blocco queste cose qua non le so provo a usare neanche la resto non ho mai provato usare mai ci proverò perché non ho un cervello molto grande per riuscirci ma con questo studiando per le mod molti meno chiesto come come facevo le mod perché sto progettando una mod e ancora si ancora sto facendo questa mod con per ora con un tool però sto studiando in java per fare mod più complesse e fatto proprio da me java si avete sentito ma no perché non mi spritta perché si voglio farle con java perché mi serve anche per altra roba java anche per la scuola quindi sto studiando va voglio studiare passo passo i vari i vari linguaggi perché mi servono per la scuola soprattutto perché professore il nostro professore è un nabbo è un idiota e basta e siamo quasi arrivati alla fine di questo episodio ora quando muoio chiudo l'episodio se muoio e speriamo di no che così andiamo avanti vai no no e cosa devo dirvi niente e noi ci vediamo al prossimo prossimo video siamo arrivati quasi a 8 minuti e non abbiamo concluso niente siamo a livello 7 ed è non è difficile sono io che sono nabbo e noi ci vediamo al prossimo video quindi bella ragazzi e mi sa che ho saltato anche qualche livello e noi ci vediamo